Quando entriamo nella struttura che ospita il centro diurno della cooperativa all'Officina dell'Aias in Borgo, Venezia, troviamo alcuni spazi in cui diverse persone con varie disabilità ci accolgono con un sorriso mentre sono impegnate in tanti tipi di lavori manuali. Sotto lo sguardo attento degli operatori predispongono e assemblano materiali e oggetti per sostenere le attività della cooperativa. La cooperativa all'Officina dell'Aias si occupa di servizi alla persona, persone disabili partendo dal semi residenziale con due centri diurni, due comunità residenziali, una comunità alloggio e una comunità residenziale. Stiamo partendo con una nuova avventura come avete potuto apprendere sull'apertura di un ostello dove far lavorare le persone disabili che non possono essere inserite in centri diurni. In questa cooperativa i volontari sono una vera forza e con queste attività giornaliere gli ospiti possono esprimersi e crescere. La cooperativa è convenzionata con la ULSS e risponde alle necessità di tante persone con varie difficoltà. Diciamo che noi cerchiamo di capire la persona che abbiamo di fronte e in base alle esigenze i bisogni creiamo dei servizi ad hoc per la persona. Per questo ci avvaliamo anche per dare un servizio migliore di volontari. All'interno della cooperativa ci sono quasi un centinaio di volontari che lavorano sul servizio dei trasporti, in attività come nella ceramica, con tipingere, creare collane e far fare le vacanze ai volontari. Per questo noi ci avvaliamo di due associazioni di volontariato, una è il CARSA e l'altra è il Villaggio che ci supportano e ci danno una mano. all'interno delle strutture residenziali abbiamo dei volontari che vanno a far da mangiare, a dare una mano a preparare i pasti per le persone.